Ornella Muti al Teatro Orfeo di Taranto e Teresa, la protagonista del Il Pittore di Cadaveri di Mark Borkowski per la regia di Enrico Lamanna. Un giallo appassionante, mai scontato, fuori dai luoghi comuni, che parla di sofferenza, ma anche di riscatto. La storia è quella di Edward Vitavich, artista apprezzato e tormentato da una dipendenza da alcol e farmaci. In preda ad una crisi artistica ed esistenziale, gli giunge inaspettata la proposta di un ricco committente, realizzare il ritratto di sua moglie, estimatrice dell'artista per sublimare in eterno la bellezza dei suoi anni e in particolare del suo sguardo. Vitavich accetta, malincuore, ma Teresa arriva immobile, in una cassa, senza vita. Edward dovrà idratarla e agglindarla finché recuperi le fattezze impresse nei ricordi del marito che però la maltrattava. Affacciata alla soglia di una porta, immobile nella penombra, ossessionerà l'artista e i suoi sogni sino al momento in cui prenderà la parola la donna eristia a farsi ritrarre e due stringono un patto per ogni sua richiesta secondata. Lei gli donerà un colore, componendo la tavolozza del pittore, Teresa restituirà all'artista quanto a lei è stato negato. La libertà, la serenità, la maternità tanto agognata e negata. Un personaggio complicato probabilmente, una morta che parla. Anche la morte è relativa. Siamo vivi, siamo veri, non si sa. E in realtà è quello che lei comunica e credo che sia soprattutto amore. Amore, riscatto. E lei riscatta vari personaggi. Che cosa le comunicano i teatri? È un rapporto stretto col pubblico. Esserci per davvero, che è una cosa molto speciale e unica. Grazie. Grazie.